Le suore di una struttura sanitaria di Gozzano stalkerizzate e minacciate dal nipote, di una signora ricoverata, a prenderle di mira Mauro Costa, 51 anni, residente a Coggiola. Non un caso isolato, da tre anni almeno infatti l'uomo le avrebbe molestate ininterrottamente via telefono, accusandole di essersi appropriate della pensione della zia e di averla anche circuita e costringendo in questo modo le religiose a staccare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo. Una storia di presunte molestie e minacce è quella al vaglio del tribunale di Novara. Le vittime sono le suore della casa di riposo dottorunico di Gozzano nel Novarese. Lì era ricoverata la zia dell'imputato. Lui riteneva che la struttura si stesse intascando i soldi versati dal conto della donna per coprire le spese della retta mensile. Ad ogni prelievo, così è stato denunciato ai carabinieri, il nipote diventava molesto e cominciava a telefonare per insultare. Pare che a scatenare il tutto fosse stato un periodo di mora nel pagamento della retta, di cui si occupava in precedenza proprio il nipote. E in più la volontà dell'anziana zia di rimanere nella struttura, nonostante lo stesso volesse portarsela via. Dallora lui ha continuato a telefonare, rivendicando somme che a suo dire non erano dovute. All'inizio le suore non badavano molto a queste chiamate, poi però sono diventate sempre più insistenti e dal contenuto intimidatorio e minaccioso anche di morte.